Oltre 100 persone in fila per la firma digitale, tempi di attesa di quasi quattro ore, code e assembramenti stamani davanti alla sede della Camera di Commercio di Salerno in via Generale Clark per il ritiro del dispositivo della firma digitale indispensabile alle microimprese per l'accesso al bonus una tantum di 2.000 euro previsto dalla regione Campania per fronteggiare la crisi economica causata dall'emergenza coronavirus. I dipendenti della Camera di Commercio anche oggi sono stati costretti agli straordinari provvidenziale l'intervento di due auto dei vigili urbani che ha evitato che la ressa aumentasse ancora e a dismisura. I caschi bianchi hanno presidiato la zona con la presenza di quattro genti sul posto e gestito la situazione con transenne e nastri per incolonnare e contingentare l'enorme fila di persone che andava via via aumentando. All'interno degli uffici della Camera di Commercio tre sportelli si sono occupati di evadere le richieste con un tempo medio di circa un quarto d'ora a pratica. Numeri alla mano con oltre 100 persone in fila e un numero di prenotazione alla mano l'attesa è stata di circa tre ore e mezza anche quattro. La firma digitale è indispensabile lo ricordiamo per l'accesso al bonus ma rimarcano dalla Camera di Commercio può essere richiesta anche da intermediari in pratica dai commercialisti. Domani si prevede una sorta di copia in colla ma i vigili urbani hanno già predisposto un percorso più articolato per smaltire meglio la fila. L'ammontare delle risorse destinate al finanziamento della regione campania è di 140 milioni di euro. Il bonus è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto una tantum pari a 2.000 euro per ciascuna impresa richiedente ed è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni anche finanziarie emanate a livello nazionale nell'attuale emergenza sanitaria da covid-19. Le domande potranno essere presentate dalle 10 di lunedì 20 aprile prossimo fino alla mezzanotte di giovedì 30 aprile. Io sono dalle 8 e mezza stamattina. Che numero? 101. Sono arrivato alle 8 e un quarto. Più o meno penso che ce la faremo. Fino a ieri sul decreto non c'era scritto questa cosa quindi ci hanno quasi obbligato a venire qua a fare la firma digitale. No, non pensavo che ci fosse tutta questa gente. Scaglia è andata male, forse era meglio per appuntamento. Sì, sì, sicuramente perché quando sono arrivato alle 8 e mezza c'era un caos generale e quindi hanno sistemato un po' le cose. Quanto tempo penso di appuntarvi? Spero mezz'ora.